Salve ragazzi, oggi vi presentiamo un'applicazione per Windows 8 che vi consente di modificare ed aggiungere effetti alle vostre immagini legatevi prima di tutto all'indirizzo che troverete nell'articolo collegato al video e cliccate via via Windows Store vi si aprirà così l'app dello store e cliccate quindi su installa a questo punto dovete attendere che l'applicazione venga scaricata e installata non appena viene quindi installata vi comparirà la notifica in alto a destra quindi cliccate sulla notifica per avviare subito l'applicazione come potete notare l'applicazione è davvero molto intuitiva poiché già all'avvio vi compaiono dei tasselli per o aprire un'immagine oppure applicare direttamente degli effetti, bordi e aggiustamenti automatici dell'immagine cliccando semplicemente su uno di questi tasti vediamo con Basic Edits vi comparirà a questo punto un'immagine campione su cui potete lavorare ma se volete aprire voi un'immagine basta cliccare su Open e scegliere l'immagine nel nostro caso siamo quella campione noterete quindi che vi comparirà sulla sinistra l'immagine a destra un menu tramite il quale poter applicare effetti modificare luminosità, contrasto, saturazione, aggiungere bordi e così via ad esempio nel menu Edit è presente OneTap Enhance che vi consente di in un solo clic aggiustare automaticamente l'immunicità e contrasto dell'immagine e saturazione poi nel menu FX troviamo vari effetti raggruppati in categorie ad esempio vi è questo qua, Mini Over oppure Old Glow ne sono davvero tanti molti dei quali molto artistici anche bianco e nero, vari tipi di bianco e nero e così via in Border invece è possibile applicare uno dei tanti border presenti nel programma ad esempio mettiamo questo in Tilt Shift invece può essere applicato una sfocatura attorno a un determinato punto tramite questo qua possiamo anche scegliere il tipo di sfocatura se più forte o meno forte il raggio del cerchio oppure è possibile anche fare una sfocatura posso dire radiale lineare vedete? c'è anche ruotare e infine è presente anche il strumento per ritagliare la vostra immagine in base anche a dei standard ad esempio 16 noni 4 terzi e così via una volta quindi completate tutte le modifiche mi basterà premere l'ultimo pulsante Save per salvare la vostra immagine e quindi clicchiamo Salva un'applicazione davvero molto ben fatta e semplicissima in utilizzo e con questo la nostra video guida è terminata grazie per averci seguito e continuare a seguirci su www.wilt-tech.eu e alla prossima grazie per aver guardato il video